Eccomi, allora c'è un altro regalo, io apro anche questo, allora vediamo, non è facile, che vi do una forbiciata, una forbiciata sforbiciata nella pancia, che diciamo che il giorno del compleanno nel caso, vi ricordo i miei anni, che sono 26, wow, vediamo, le mie password, ragazzi questo è meraviglioso, io non so manco come mi chiamo, figuriamoci le password, dove segnare le mie password, è meraviglioso, questo veramente è una cosa straordinaria, tutti e due regali magnifici, allora poi ora accendo, accendo quello, quasi quasi mi mangio anche un cioccolatino, eccolo qua, eccolo qua, mi mangio un cioccolatino, ma qui ne manca uno, secondo me qualcuno se l'è mangiato, è un peccato mangiandoci, sono talmente belli, vedete, questo veramente mi è stato regalato, un mese fa,